Questo pomeriggio a Mazzara del Vallo, il Rotary Club di Mazzara del Vallo, consegna un importante accessorio alla sezione della Croce Rossa di Mazzara del Vallo. Di cosa si tratta? Allora, noi abbiamo voluto fortemente questo momento. È la donazione di un defibrillatore che doneremo al comitato locale della Croce Rossa. Riteniamo che sia un momento importante per tutta la comunità mazzarese perché questo è uno strumento che sarà in dotazione alla Croce Rossa ma che sarà messo a disposizione di tutta la nostra città. Un defibrillatore è uno strumento importante che può salvare vite umane. Quindi questo per noi è un momento veramente di grande emozione e di grande commozione. Diciamo che questo è quello che vogliamo noi fare del Rotary. Vogliamo che il Rotary sia al servizio della comunità locale e laddove è possibile poter soddisfare le esigenze e i bisogni della popolazione. Con noi anche Mariella Quinci, commissario del comitato locale della Croce Rossa di Mazzara del Vallo. Quello di oggi è un evento importante? Sarà utile? Oggi è un evento molto importante. Intanto ringrazio di vero cuore il Rotary Club per averci pensato. Il defibrillatore è una cosa importante, non è solo di Croce Rossa ma di tutta la cittadinanza. Un grazie anche al dottore Sparacino che è il coordinatore del centro regionale di Terapianti per essere qui oggi insieme a noi. E io affianco il delegato regionale che è Claudio Gucciardo che lui è anche un monitore salvavita. Il nome della Croce Rossa Sicilia ovviamente per noi è una giornata di festa. Ringraziamo il Rotary Club di Mazzara che ha donato questa attrezzatura salvavita che viene data solamente in custodia alla Croce Rossa di Mazzara ma è un bene per tutti i mazzaresi. Al giorno d'oggi sono tantissimi casi ancora di morte cardiaca improvvisa quindi cerchiamo di prevenire questo problema sul territorio donando il defibrillatore semiautomatico e formando i cittadini all'uso dello stesso. Canto a me il dottore Sparacino un evento importante è quello di oggi anche per sensibilizzare la popolazione verso queste tematiche e soprattutto essere attivi appunto anche nel donare e nel volontariato. Noi abbiamo l'obbligo di informare tutti i nostri concittadini che hanno l'opportunità se vogliono di donare i propri organi dopo la loro morte. Ammesso che questo sia possibile perché non sempre è possibile. È un diritto che la nostra legge riconosce ai cittadini di questo Stato e la nostra legge vuole anche che questo diritto venga espresso in maniera consapevole, quindi informata. Allora informare, spiegare, rassicurare tutti quanti che è solo dopo che è stata accertata oltre ogni dubbio la morte di un individuo che è possibile pensare a prelevare i suoi organi che non avrebbero altro destino che quello di essere corrotti e donarli a un individuo che attraverso questi organi può ritrovare condizioni di vita migliore o addirittura una speranza di vita che non ha più. Per chi ha la volontà di donare gli organi, cosa deve fare e a chi si deve rivolgere? Può fare una cosa molto semplice, dirlo, dirlo ai propri familiari, dirlo alle persone che gli sono vicine, può fare una cosa un poco più complessa che però ha un valore molto più rilevante e soprattutto solleva i propri familiari e nella eventualità che si verifichino queste condizioni di dover prendere una decisione. Può sottoscrivere una dichiarazione di volontà, adesso è possibile farlo oltre che nella propria USL o ASP come dir si voglia, può farlo anche all'ufficio anagrafe del proprio comune. Qui a Mazzara per esempio noi abbiamo stipulato un accordo con il comune di Mazzara che consente ai cittadini di Mazzara di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione degli organi quando vanno a fare un certificato, la carta di identità e questa dichiarazione viene raccolta e inserita dentro il sistema informativo dei trapianti che è un sistema che copre tutto il territorio nazionale.